Ultime due giornate di campionato, due turni quasi interamente spalmati nella giornata di domenica per garantire la contemporaneità dei match. Liserni ha festeggiato nello scorso turno l'attesissimo e ambito ritorno in Serie D, una promozione fortemente voluta da tutta la società e dall'intera piazza che mancava dalla stagione 2018-2019. Al termine di un campionato quasi perfetto a Liserni è il merito di non aver mai perso di vista l'obiettivo. Una squadra cinica e determinata, un gruppo in grado di superare le difficoltà incontrate lungo il percorso. Una squadra che non ha nulla in più da chiedere, solo vivere il momento di gloria tutti uniti. Domani trasferta al Tomolisana con i bianco-celesti ospiti dell'Olimpia agnonese, una situazione complicata per i Granata ad un punto dall'ultimo posto che non avranno dalla loro parte. Un finale di stagione agevole, prima Liserni, poi lo scontro diretto con il Termoli 2016 che decreterà l'ultima posizione e di conseguenza la retrocessione diretta nel torneo di promozione. Nessun play-off da giocare stando all'attuale situazione di classifica, una forbice di ben 12 punti tra le squadre interessate all'eventuale post-season. La terza forza del girone, il Guglionesi, chiuderà la stagione casalinga contro la Turris. Con un occhio sempre attento al Boiano, gli ospiti proveranno a mettere in cascina almeno un punto per non rischiare di incorrere nella lotta play-out, che ad oggi vedrebbe di fronte il Boiano contro l'Olimpia agnonese e la Cliternina contro il Campomarino. Torniamo nella zona alta di classifica. Il Venafro, protagonista di una stagione vissuta a corrente alternata, saluterà i propri tifosi ospitando al Marchese del Prete, un ripa limosani in cerca di successo dopo i tre stop in successione. Negli ultimi 180 minuti di gioco, i gialloblu avrebbero la possibilità di aggiungere 6 punti chiudendo il campionato a quota 41, al centro della graduatoria. Un buon risultato per una squadra neopromossa nel massimo torneo regionale. Ottima anche la stagione del Fortore. In campo, la compagine di San Bartolomeo Ingaldo ha dato filo da torcere, dimostrando di meritare ampiamente la permanenza in eccellenza. Domani, di fronte al pubblico amico, ospite di turno sarà il fanalino di coda Termoli 2016. A chiudere l'ultima domenica di aprile la gara tra il Boiano e l'Atletico San Pietro in Valle. In un ottimo momento di forma, i matesini, da quando hanno cambiato guida tecnica, sembrano aver intrapreso la strata giusta. Le tre affermazioni consecutive hanno permesso alla squadra di proseguire nella corsa verso la salvezza diretta. Domani sarà a tutti gli effetti una giornata decisiva per le squadre in corsa per la salvezza e anche per chi dovrà passare per la post-season.